Vivere nel bosco, il bosco come, qui siamo in un posto meraviglioso, non vi dico dove, faccio, io spero che si senta la voce, comunque li pubblico lo stesso, anche se non si sente niente, vieni a vivere nel bosco, il bosco come, relax, come un momento, tombini a livello, tombini a livello, tombini a livello, siamo in Svizzera, le auto, quanto costano le auto tedesche, tombini a livello, le buche, metti a posto le buche, in Italia le buche non vanno bene, il costo della vita, la borsa sta crollando, la borsa crolla, fra poco chiudo il canale, vi dico perché ti faccio vedere le macchine che ho progettato, ci sono delle macchine, quelle macchinette sai, quelle robe, come si chiamano, dai, come si chiamano, dai, quelle robe, quelle robe tipo, dai, quelle macchine, quelle macchine geometriche, che fanno l'elettronica, ti spiego come si progettano, e poi, ti spiego come fare palestra, bastano le flessioni, poi, dai, vieni con me, che ti presento qualche, qualche donnina lì, di qualche, di chi è che sto parlando, di qualche privé, di qualche, qualche donnino, di qualche privé, fa anche rima, donnino, di chi, di chi sto parlando, secondo voi? Poi, che ne so, io avevo, io avevo previsto tutto, avevo previsto della borsa, crollava e lo spread alle stelle, e adesso cosa succede? Ti spiego come fare degli investimenti, per migliorare il tuo futuro, ti spiego come diventare ricco in pochi giorni, quanto costano le case alle canarie?